Indiane alza il ritmo nell'allenamento del campo di Rigutino. L'obiettivo è semplice, trovare la giusta carburazione per accelerare il passo contro una squadra che dati alla mano è in grande difficoltà. La partita con la fermana di domenica dunque diventa la grande occasione che l'Arezzo deve sfruttare in un momento sicuramente non brillante anche per gli amaranto che ancora devono digerire quello che è successo domenica scorsa con il Pineto. I meriti degli avversari si compensano con i demeriti dell'Arezzo che ha pagato a caro prezzo gli errori accumulati ma se è vero che dagli errori possono arrivare lezioni utili per il futuro la partita di fermo è l'occasione propizia per cancellare quel passo falso e riprendere la marcia verso la salvezza. Renzi si è allenato ancora parte e non potrà essere della partita. Il resto degli arruolabili ha risposto presente. Il ritorno di Mavuli potrebbe riportare a vedere quell'assetto centrale che finora aveva convinto di più il tecnico di Certaldo. La squadra si allenerà domani poi nel pomeriggio partenza per Assisi.